E TG più Today, buongiorno, ben ritrovati in martedì mattina, un'ora come sempre per approfondire tutte le notizie della giornata, gli aggiornamenti in tempo reale in arrivo dall'Italia e dal mondo, apriremo poi come sempre anche la nostra finestra sulla Lombardia e come ogni mattina è possibile intervenire in diretta 031-3300-655 per le telefonate, 335-708-4396 invece per i messaggi Whatsapp. E allora sono tante anche questa mattina le notizie, in primo piano in particolare gli aggiornamenti in tempo reale che arrivano dalla Camera con le comunicazioni della Premier Giorgia Miloni in vista del Consiglio Europeo, la riunione in programma il 15-16 dicembre, appunto questa mattina Giorgia Miloni è intervenuta alla Camera, pieno sostegno a Kiev, dall'Unione Europea risposta insoddisfacente e inattuabile sull'energia. Allora andiamo tra pochissimo a leggere proprio le parole dell'intervento di Giorgia Miloni alla Camera che vediamo anche sull'ANSA, Giorgia Miloni più Italia in Europa non viceversa e poi anche le notizie, gli aggiornamenti sul cosiddetto Qatar Gate con la richiesta di Strasburgo della rimozione di Kaili dalla vicepresidenza. Vediamo anche l'apertura di Repubblica, si parla di energia, di bollette della luce e del gas con l'antitrust che costringe sette società a cancellare gli aumenti giudicati ingiustificati per 2 milioni e 600 mila clienti. Anche in questo caso poi il cosiddetto Qatar Gate, visentini coinvolto solo perché ho partecipato ad attività culturali in una ONG riconosciuta dal Parlamento Europeo, mentre ci sono poi tutti gli aggiornamenti, c'è un pentito perquisizioni e sigilli anche al Parlamento dell'Unione Europea, i conti segreti delle ONG e la rete dei finanziatori, ecco il sistema Panzieri, si parla poi di mazzette, affari e lobby, la sinistra e il ritorno della questione morale, questi appunto i commenti anche alla notizia, l'apertura del Sole 24 Ore, invece anche in questo caso la diretta con le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio dell'Unione Europea e poi anche l'Istat con la produzione industriale che appunto in calo dell'1% a ottobre, meno 1,6% tendenziale. Leggeremo poi tutti i dettagli ma lo dicevamo andiamo come sempre d'abitudine al mattino anche a vedere qual è la situazione delle strade in Lombardia con la nostra rubrica in collaborazione con ANAS. E allora due le segnalazioni in questo momento, strada statale 11 Padana Superiore, si parla di traffico rallentato all'incrocio di Bedizzole, invece sulla strada statale 9 via Emilia un incidente all'incrocio tra Modena e la strada statale 255 di San Matteo Decima in direzione dell'incrocio di Rimini con la strada statale 16 Adriatica. È sempre possibile rimanere aggiornati in tempo reale consultando il sito www.stradeanas.it oppure chiamando il numero verde gratuito pronto ANAS 800 841 148. E allora lo dicevamo in primo piano l'intervento della Premier Giorgia Meloni alla Camera questa mattina, un intervento in vista di quello che sarà poi il Consiglio Europeo. Andiamo allora a leggere nel dettaglio quali sono state le parole della Presidente del Consiglio intervenuta a Montecitorio alla vigilia del Consiglio Europeo. Fieri della solidarietà mostrata dall'Italia nei confronti del popolo ucraino. La Presidente del Consiglio giovedì debutta al Consiglio Europeo e spiega alla Camera con quali intendimenti intende presentarsi. l'Italia può giocare un ruolo da protagonista avendo come stella polare la difesa dell'interesse nazionale. Spiega alla Camera sottolineando che la realtà è diversa dal disfattismo fatto dopo la nascita del nostro governo. Ci vuole più Italia in Europa, non limitarsi a ratificare decisioni prese a valle. Siamo chiamati ad essere protagonisti e non comprimari. Primo punto è la difesa della causa ucraina. Il governo garantisce pieno appoggio a Kiev. Come sempre su questo non abbiamo cambiato idea perché le nostre convinzioni non mutano se siamo all'opposizione o al governo. Il conflitto non coinvolge solo il futuro delle popolazioni ucraine ma delle istituzioni europee. L'Italia deve svolgere un ruolo più propositivo. Dobbiamo contribuire anche sul piano militare al sostegno europeo dell'Ucraina. Per perseguire una pace, ma una pace giusta, l'Italia deve continuare a fare la sua parte. La Premier ricorda che il nostro paese ha sempre onorato i suoi impegni con cinque decreti legge anche relativamente alle sanzioni. Sono dolorose ma hanno dimostrato di essere efficaci e hanno un ruolo fondamentale per accelerare la fine del conflitto. Poi l'energia. Sul prezzo del gas, precisa Meloni, la proposta europea di Price Cap è insufficiente perché è inattuabile alle condizioni date. Proprio oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri dell'Energia dove da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. È fondamentale porre un argine alla speculazione. La posta in gioco sull'energia è molto alta perché definisce la capacità dell'Europa di difendere le sue famiglie e le sue imprese, evitando di avere un'Unione Europea a due velocità. Andare in ordine sparso non solo sarebbe un'illusione ma tradirebbe una realtà dell'Europa molto diversa da quella che è stata decantata in questi anni. Quindi il passaggio sui temi dell'immigrazione. La rotta del Mediterraneo centrale è stata considerata per la prima volta prioritaria in un documento della Commissione dell'Unione Europea. Non sarebbe accaduto se l'Italia non avesse posto con determinazione due questioni, il rispetto della legalità internazionale e la necessità di affrontare il fenomeno della migrazione a livello strutturale. Continuiamo ad essere convinti che bisogna passare dalla discussione sulla distribuzione dei migranti alla difesa dei confini. Bisogna fermare le partenze e lavorare a una gestione europea dei rimpatri. Con 94 mila arrivi l'Italia subisce il maggior onere in Europa. Non intendiamo fingere che vada bene così. Arricchire gli scafisti nulla ha a che fare con il concetto di solidarietà. Bisogna responsabilizzare i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Finora non è avvenuto. L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista anche su questo fronte. Meloni propone un piano Mattei per l'Africa per garantire crescita, dignità, lavoro, per non essere costretti ad emigrare. Allora questo l'intervento della Premier, Giorgia Meloni, questa mattina alla Camera, lo ricordiamo, in vista del Consiglio europeo. Ora ovviamente intanto ci sono poi anche gli interventi successivi, le repliche all'intervento. Ci saranno poi le repliche all'intervento di Giorgia Meloni che tra l'altro vediamo curiosità dal Corriere della Sera, è arrivata in ritardo alla Camera e ha detto c'era traffico, ma non dico che sia colpa di Gualtieri, del sindaco di Roma. Quindi anche questo dettaglio curioso ovviamente sull'arrivo in ritardo della Premier alla Camera. Andiamo a vedere di nuovo appunto anche l'apertura dell'Ansa e si parla anche ovviamente anche in questo caso del Qatar Gate, cosiddetto Qatar Gate, perquisite le abitazioni della famiglia Panzieri a Milano. Però appunto in primo piano anche in questo caso l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati e poi appunto Strasburgo che chiede la rimozione di Kaili dalla Vicepresidenza. Allora dal Corriere forse possiamo andare a sentire anche un passaggio dell'intervento della Premier. Non so se possiamo appunto sentire in diretta dall'intervento della Presidente del Consiglio in questo momento alla Camera, appunto l'evento è trasmesso naturalmente in diretta anche dal canale del Parlamento. In questo momento però non si riesce a vedere la diretta. Comunque lo abbiamo visto in particolare l'intervento della Premier, incentrato su quanto sta accadendo in Ucraina e poi anche sul tema dell'energia in vista proprio del Consiglio europeo. Allora andiamo a vedere però anche qual è l'altra notizia che sta tenendo banco da giorni. Parliamo appunto del cosiddetto Qatar Gate. I giudici parlano di Panzieri come del manovratore con la sua ONG. Kaili trovati 750 mila euro e mezzola, ha detto ieri in serata. L'Europa è sotto attacco. La polizia negli uffici dei deputati a Bruxelles sigiglia. Le stanze dell'assistente del parlamentare europeo del PD Andrea Cozzolino ha arrestato e liberato Luca Visentini. Sono estraneo a tutto. Un paravento dietro il quale Antonio Panzieri si muoveva manovrando come un capo in modo criminale e spregiudicato. Secondo la magistratura belga era questa la reale funzione di The Fighting Punity, la ONG, per la difesa dei diritti umani fondata nel 2019 da Panzieri, il quale avrebbe influenzato il Parlamento europeo, elargendo attraverso la sua nobile creatura grosse somme di denaro e regali principeschi provenienti dal Qatar. Cadò che avrebbe elargito a coloro che, politici o no, potevano orientare le decisioni dell'Assemblea a favore del paese del Golfo a ridosso del Mondiale di Calcio, quando emergeva con evidenza che l'Emirato proprio non era in prima linea nei diritti umani e dei lavoratori. E le indagini si estendono a Milano, alla rete italiana legata a Panzieri, al suo patrimonio definito molto consistente. Gli sviluppi dell'inchiesta della Procura federale belga puntano in modo marcato al ruolo dell'ex politico del PD e poi di articolo 1 e della sua ONG, l'organizzazione non governativa che annoverava nel Consiglio onorario personaggi del calibro degli ex commissari europei Emma Bonino e Dimitris Avampopoulos e della ex rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Federica Mogherini, tutti dimessi per lo scandalo che ha portato in carcere per associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio Panzieri, uno dei 14 vice presidenti del Parlamento europeo, la greca Kaili, il padre e il compagno di questa, il milanese Francesco Giorgi, la moglie e la figlia di Panzieri, il segretario dell'ONG Gino Peace Without Justice, Nicolò Talamanca, un ambiente in cui l'italianità crea cameratismo e complicità e che, ma solo per una questione di assonanza tricolore, si estende al cognome dell'europarlamentare Mark Tarabella perquisito sabato scorso davanti al presidente dell'Europarlamento Roberta Mezzola che è dovuta appositamente rientrare di corsa da Malta. Allora, leggeremo poi anche altri dettagli dell'inchiesta che sta scotendo l'Europa, ma intanto andiamo a dare la linea a Pavia, a Elisa Santamaria. Sì, buongiorno Anna e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today, siamo a Pavia questa mattina, una Pavia che si è risvegliata con i primi tetti leggermente imbiancati, la neve si sta già sciogliendo ma è chiaro che il freddo è arrivato e così anche la neve. Questa mattina le temperature sono piuttosto rigide, siamo attorno ai 3 gradi. Siamo a Pavia perché incontrerà il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni, insieme a lui faremo il punto sulla situazione in vista delle elezioni che sono in programma febbraio e cercheremo di capire anche quali sono i punti del programma e anche a che punto siamo con queste elezioni. Tra poco Anna ti chiedo di nuovo la linea da Pavia. Grazie, allora intanto continuiamo appunto con ancora qualche dettaglio sull'inchiesta sul Qatargate. Le indagini si muovono spedite anche sull'asse Bruxelles-Milano per individuare la rete dei rapporti di Panzeri. Usufruendo di Eurojust il giudice istruttore Cleis sta ricevendo assistenza giudiziaria dall'aggiunto Fabio De Pasquale che guida il Dipartimento Affari Internazionali della Procura di Milano. È stato lui a ordinare la perquisizione dell'abitazione di Panzeri a Calusco d'Adda in provincia di Bergamo dove moglie e figlia sono ai domiciliari e dove la Guardia di Finanza ha trovato 17 mila euro in contanti che si sommano ai 600 mila sequestrati all'uomo al momento dell'arresto in un residence di Bruxelles. Tanti, troppi sono i soldi che girano in questa storia. Oltre alle banconote Panzeri e i suoi familiari sembrano possedere un patrimonio importante fatto di conti correnti che sono stati acquisiti insieme ed immobili che difficilmente può essere giustificato solo con il purricco appannaggio incassato in dieci anni di mandato parlamentare europeo. Le indagini di De Pasquale, perquisita anche la casa di Giorgi e sequestrato il suo conto, dovranno contribuire a chiarire i flussi di denaro arrivato dal Marocco e dal Qatar in contanti e bonifici. E poi ci sono i 100 mila euro che sarebbero stati spesi per una vacanza di Natale e i regali trasferiti in Marocco. Banconote fruscianti tornano anche nell'arresto di Eva Kaili, causato dal fermo precedente del padre. Quando venerdì la polizia lo ha visto lasciare in fretta e furia il lussoso albergo nel quartiere europeo di Bruxelles, dove era arrivato qualche giorno prima con la moglie, è bastato un attimo agli agenti per saltargli addosso e scoprire che nel trolley che si trascinava dietro c'erano la bellezza di 600 mila euro in banconote da 50 euro. Perché aveva tanta fretta? Forse sapeva che gli investigatori erano sulle tracce dei soldi accumulati dalla figlia con le tangenti, dicono a Bruxelles, ai quali si aggiungeranno i 150 mila euro trovati in banconote da 20 e 50 euro nell'abitazione della Kaili, assieme a molti regali di valore, oggetti e medaglie ricevuti dal Qatar. La scoperta dei soldi e dei regali è stata considerata la flagranza di reato che facendo decadere l'immunità parlamentare ha permesso alla magistratura di arrestare Kaili. Sono 19 le abitazioni perquisite, 10 gli uffici di collaboratori sigillati al Parlamento per congelare e prevenire la manomissione dei dati, dei telefoni e dei pc sequestrati, come spiegano i magistrati. I sigilli anche negli uffici di Strasburgo degli assistenti dei parlamentari PD non indagati, Alessandra Moretti e Andrea Cozzolino. L'ha arrestato Giorgi assiste il secondo e lavora in uno dei due. Fermato venerdì è rimesso in libertà, il giorno dopo Luca Visentini, capo della Confederazione Sindacale Internazionale, è ancora scosso dall'esperienza del carcere. Sono stato liberato senza accuse formali e con condizioni minime che permettono di muovermi liberamente, afferma e aggiunge sono estraneo a qualsiasi forma di corruzione. Se fossi stato corrotto, se fosse un corruttore, le mie posizioni politiche sarebbero state molto favorevoli al Qatar, invece nei giorni precedenti avevo dichiarato che le riforme fatte in quel paese erano del tutto insufficienti. Allora queste anche le ultime notizie appunto sul cosiddetto Qatargate, ma lo dicevamo in primo piano anche notizie economiche. Andiamo al sole 24 ore per gli ultimi aggiornamenti dell'Istat sulla produzione industriale che risulta in calo dell'1% nel mese di ottobre con un meno 1,6% tendenziale. Questo secondo l'Istituto di Statistica nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione invece è aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. A ottobre 2022 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dell'1% rispetto a settembre. In una nota l'Istituto segnala che nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione è aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile è cresciuto su base congiunturale solo per i beni strumentali più 0,2% mentre cala per i beni di consumo meno 3%, per l'energia meno 1,2% e marginalmente per i beni intermedi meno 0,1%. Corretto per gli effetti di calendario, ottobre 2022 l'indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dell'1,6%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a ottobre 2021. Allora questi gli ultimi aggiornamenti anche in materia economica sul Sole 24 Ore però ovviamente in primo piano anche tutti gli aggiornamenti, le comunicazioni della Premier alla Camera ma anche le parole di Macron che ha aperto la conferenza di Parigi sul conflitto in Ucraina intanto bombardato il distretto di Nikopol. E allora con questi aggiornamenti che arrivano anche sul fronte del conflitto in Ucraina torniamo a dare anche la linea a Pavia. Sì, ci ha raggiunto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Eccoci, facciamo il punto sulla situazione in vista delle prossime elezioni regionali, Movimento 5 Stelle che punto è? Il Movimento 5 Stelle da mesi sta lavorando con le forze di opposizione di Regione Lombardia per costruire un programma condiviso. Noi abbiamo sempre messo al centro i temi, i punti programmatici, prima ancora dei nomi e su questo stiamo lavorando. Ovviamente è un lavoro che nelle ultime settimane sta diventando sempre più serrato con il PD e con le altre forze politiche per trovare una quadra, si dice insomma, cioè per trovare i punti di caduta, i punti da condividere insieme per proporre un programma realmente alternativo ai cittadini lombardi. Alternativo a una politica di centrodestra che a nostro avviso ha ampiamente fallito su tutti i fronti, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista infrastrutturale, la sanità, i temi sono tanti. Su questo dobbiamo cercare di costruire una condivisione, un punto condiviso tutti insieme per arrivare ad avere una forza alternativa, realmente alternativa, capace veramente di contendere questa regione ad una politica di centrodestra che, ripeto, a nostro avviso dopo 30 anni di governo di questa regione ha fatto più male che bene. Ecco, ma presentarvi da soli non potrebbe essere invece una scelta che possa risultare insomma anche penalizzante? Diciamo che il Movimento 5 Stelle, che è una forza politica relativamente giovane, perché è nata quasi circa dieci anni fa, si è già presentata da sola due volte, alle elezioni del 2013 e alle elezioni del 2018, tutto sommato con dei risultati positivi perché i cittadini hanno, come dire, sostenuto la nostra candidatura, ma le elezioni regionali purtroppo è un'elezione di carattere maggioritario, dualistica, per cui i cittadini cercano di votare, di concentrare con un voto utile, i candidati più forti. Quindi il candidato più forte dell'area di centrodestra e il candidato più forte dell'area di opposizione. In quest'ottica, secondo noi, sarebbe più opportuno trovare una condivisione e proporre quindi ai cittadini lombardi una reale candidatura capace di concorrere alla regione Lombardia. Ecco, però ormai mancano meno di due mesi alle elezioni, gli avversari sono già in piena campagna elettorale. Anche questo, secondo voi, non potrebbe mettervi ulteriormente in difficoltà? No, i tempi sono stretti, è vero, però ripeto, noi abbiamo iniziato a lavorare con tutte le forze di opposizione già da aprile, già dalla primavera di quest'anno. È un lavoro che è iniziato e che sta andando avanti, ripeto, da mesi. Poi evidentemente in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane è sempre più serrato, ripeto, per trovare i punti condivisi, per proporre un programma realmente alternativo a quello proposto da 30 anni di governo del centrodestra che, vorrei ricordarlo, uno su tutti ha privatizzato al 100% la sanità di regione Lombardia. Quindi già questo potrebbe essere un tema forte su quale dobbiamo lavorare per risolvere un problema ai cittadini che sono in attesa tutte le volte di mesi, se non di anni, per poter accedere ai servizi sanitari. Una sanità che in questi 30 anni non è stata in grado di fare l'agenda unica, per esempio, il fascicolo sanitario e elettronico. Quindi sono tutti temi che dobbiamo affrontare per dare una alternativa ai cittadini lombardi. Sì, ok, la sanità, ma non solo. Quali sono gli altri punti su cui state lavorando e comunque che sono per voi importanti? Per noi importanti sono l'ambiente, che è un punto molto caro al Movimento 5 Stelle. Ambiente svolta green? Ambiente svolta green, che ha anche svolta economica però. Perché ricordiamocelo, investire nell'energia green, nella nuova energia, nelle nuove risorse energetiche, è un volano di crescita e di sviluppo anche dal punto di vista occupazionale. Regione Lombardia è l'unica regione in Italia, forse in Europa, che ha più di un inceneritore per ogni provincia. Noi abbiamo 13 inceneritori su 12 province. Di questi molti sono anche obsoleti, superati. Ecco, questo è un tema per esempio che ha trovato già condivisione a questo campo largo, dove abbiamo proposto il decommissioning degli inceneritori, specialmente i più obsoleti, cioè quelli che inquinano di più e che necessitano di grosse risorse anche energetiche per funzionare. Questo è un tema importante perché la regione Lombardia importa rifiuti da tutta Italia, se non addirittura da fuori Italia, e è l'area più inquinata d'Europa. La pianura padana è l'area più inquinata d'Europa. Queste infrastrutture, questi impianti di incenerimento non fanno altro che contribuire ad inquinare ancora di più la pianura padana. Dobbiamo trovare una soluzione. Questo è per esempio un altro punto sul quale abbiamo trovato una condivisione. Ha citato prima Fontana, cosa pensa invece della corsa di Moratti e Maiorino? Maiorino è il candidato che è stato designato dal PD. Noi, ripeto, avevamo chiesto di parlare di punti e non di persone, però non posso giudicare il percorso che ha fatto il PD, per cui il PD ha deciso di fare un nome e di candidare Maiorino. Su Fontana è evidente che è una scelta naturale perché è il presidente uscente di Regione Lombardia, per cui il centrodestra, diciamo così, per evitare ancora di più di aggravare la figuraccia che hanno fatto in questi ultimi cinque anni con la foglia di fico, ricandidano Fontana dicendo che è stato un bravissimo presidente che ha lavorato bene per i cittadini lombardi e quindi è una candidatura, diciamo, automatica. A nostro avviso è una candidatura che non può essere sostenuta, ma per i cittadini lombardi, ripeto. Visto anche come è stata gestita, per esempio, la Regione Lombardia nel periodo del Covid, per cui i danni che sono stati fatti, l'impreparazione che ha avuto la Regione Lombardia nel gestire questa enorme emergenza che ha colpito tutta l'Italia, ma in particolare la Regione Lombardia. Mentre per Moratti? Moratti è una scelta secondo noi individualistica, cioè lei voleva essere candidata per il centrodestra, il centrodestra non l'ha candidata e quindi, diciamo, è uscita sbattendo la porta e adesso sta cercando di costruire un macchiage politico, cioè un trucco, diciamo così, per dire che lei è diversa da loro. Ma lei non è diversa da loro perché la sua storia politica è assolutamente evidente. È stata ministro per il centrodestra, assessore per il centrodestra, vicepresidente di Regione Lombardia. Non può, con una semplice candidatura dell'ultimo minuto, come dire, ripulirsi, ripulire la sua figura e le sue esperienze. È la fotocopia sbiadita di Fontana, la Moratti. Prima di restituire la linea allo studio, ma avete un termine entro il quale volete fare un nome riguardo alla vostra di candidatura? Ripeto, il Movimento 5 Stelle non ha mai messo al centro i nomi e ha sempre messo al centro sempre solo il programma e i punti programmatici. Per noi il nome giusto è quello che condivide questi punti. Se troviamo una persona che dice va bene questi punti, sono punti che sono in grado di essere alternativi, realmente alternativi, a una politica di centrodestra assolutamente fallimentare per Regione Lombardia, per noi va bene. State già lavorando su una rosa di nomi. Siete ossessionati dai nomi, voi giornalisti. Ripeto, i nomi non sono importanti. E se non lo trovate? Ha detto, se troviamo un candidato che sostiene, ma se non lo trovate? No, no, trovare lo troviamo. Il problema, noi il Movimento 5 Stelle non ha, ripeto, mai messo al centro i nomi. Abbiamo sempre lavorato sui punti. Ma questo anche a scala nazionale, a livello nazionale. Non abbiamo mai proposto dei nomi. Abbiamo sempre proposto un programma con dei punti chiari per i cittadini. Se i cittadini capiscono cosa vogliamo fare per loro, ci votano. Se i cittadini vogliono la persona famosa da votare, secondo me sbagliano. Vadano a vedere le proposte concrete e cosa in realtà hanno fatto di concreto le forze politiche per loro, per i cittadini. Lasciate un po' perdere i nomi. I nomi sono specchietti per le allodole. Grazie al consigliere Anna. Ti restituisco la linea, ma torniamo subito insieme per commentare insieme anche una notizia del Corriere, sempre insieme al consigliere regionale. Grazie. Allora, intanto noi prima di andare in pubblicità andiamo un attimo ad alleggerire anche la mattinata con qualche aggiornamento anche di sport. Innanzitutto i mondiali in Qatar, perché si parla anche di calcio giocato, anzi entrano ormai nel vivo la competizione mondiale. Oggi e domani sono in programma le semifinali. Si parte questa sera alle 20 con la sfida tra Argentina e Croazia. Ci sarà anche un po' d'Italia con l'arbitro. E poi invece domani l'altra semifinale che vedrà contrapposta la Francia al Marocco. Altissima l'attenzione anche in Francia per una sfida che di fatto vede giocare contro tantissimi giocatori che abitualmente giocano anche insieme proprio in Francia. Allora, queste le due semifinali in programma oggi e domani. Ci si avvia proprio alla fase clou della competizione in Qatar. Ma si parla anche di Formula 1, di automobilismo, di Formula 1. Lo andiamo a leggere dal Corriere del Ticino che dedica una notizia dell'ultima ora proprio all'ufficializzazione della notizia che Vasseur lascia l'Alfa Romeo per la Ferrari. Il 54enne francese sostituisce Mattia Binotto alla guida della scuderia italiana. Ora è ufficiale, lo vediamo anche con un tweet della scuderia Ferrari. Annuncia che Fred Vasseur entrerà a far parte della scuderia Ferrari il 9 gennaio come team principal e general manager. Il 54enne aveva assunto la carica di managing director e CEO della Sauber, ora Alfa Romeo, dopo il licenziamento di Caltenborn avvenuto nel luglio 2017. Il team aveva concluso il campionato del mondo costruttori 2017 al decimo posto. Quest'anno Vasseur ha portato la squadra al sesto posto. Il suo miglior risultato dal 2012 invece ora è ufficiale. Andrà a sostituire Mattia Binotto alla guida della Ferrari. L'avvicendamento ufficiale avverrà a partire dal prossimo anno, dal 9 gennaio. Quindi questo l'annuncio riportato anche dal Corriere del Ticino. Il francese si unisce alla scuderia con la missione di riconquistare il titolo mondiale. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere. Ha una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia. Ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna. Nominando per la seconda volta un francese a capo della gestione sportiva, la Ferrari spera forse di riportare la scuderia agli anni gloriosi di Jean Todde 1993-2007 che vinse 7 titoli costruttori e 6 titoli piloti. Dal 2007 dalla vittoria di Kimi Raikkonen la Ferrari non vince il titolo piloti mentre l'ultima vittoria fra i costruttori risale al 2008. Allora qualche notizia anche in campo sportivo per alleggerire un po' i temi che anche questa mattina sono tanti. In particolare lo abbiamo visto con l'attenzione concentrata sull'intervento di Giorgia Meloni alla Camera in vista della sua prima riunione ufficiale a livello europeo in programma appunto a partire da giovedì. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo tra poco. Bentornati a ITG più Today. Allora continuiamo con le notizie in primo piano questa mattina. Allora abbiamo letto tutti gli aggiornamenti sull'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Andiamo a vedere anche che l'Europarlamento chiede la rimozione di Kaili dalla vicepresidenza. La conferenza dei presidenti del Parlamento europeo riunita si stamane ha scelto di attivare l'articolo 21 del regolamento dell'Eurocamera per rimuovere dalla carica di vicepresidente l'eurodeputata greca Eva Kaili coinvolta nello scandalo Qatargate. A comunicarlo è l'ufficio di presidenza dell'Eurocamera dopo una riunione che si è estesa ben oltre le aspettative rimandando i lavori della plenaria stessa. La richiesta dovrà ora essere sottoposta al voto dell'Aula. L'avvocato di Kaili ha intanto affermato che la sua assistita è innocente. Parlando al canale televisivo privato greco Open TV, l'avvocato proprio appunto di Kaili ha sostenuto che la posizione dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento è di innocenza. Non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar ha dichiarato il suo legale difensore mentre l'Europarlamento chiede appunto la rimozione dalla vicepresidenza. E allora queste le notizie in tempo reale aggiornate proprio sul tema del Qatargate ma lo abbiamo visto è in corso adesso il dibattito dopo l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera. Ha parlato la premier di energia, di pressing sull'Unione Europea e di inaccettabili violenze in Iran. Il nostro obiettivo piuttosto che più Europa in Italia è più Italia in Europa. Però la risposta della Commissione Europea sull'energia è insoddisfacente e inattuabile. L'Italia sostiene una più stretta collaborazione tra Unione Europea e Alleanza Atlantica. Queste le parole di Giorgia Meloni. Ma torniamo anche a Pavia da Elisa Santamaria. Siamo sempre con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni. Lasciamo argomento elezioni regionali che abbiamo affrontato durante la prima parte di ETG più Today per parlare invece della qualità della vita qui a Pavia. Anche il Corriere riporta la notizia qualità della vita a Milano giù di sei posti, affitti troppo cari ma resta attrattiva. Monza la più alta occupazione femminile. Pubblicata la classifica annuale sulla qualità della vita del sole 24 ore, Milano perde sei posti e passa dal secondo all'ottavo posto pur restando nella top 10. Nel complesso la Lombardia riesce a salvaguardare sei province nei primi trenta posti della classifica pur con molti distingue. La regione infatti sembra viaggiare seguendo due velocità diverse e a seconda delle città analizzate. Partiamo qui da Pavia. Pavia è un po' il fanalino di coda della regione Lombardia per le sue province. Esattamente così. Allora la narrazione che è stata fatta negli ultimi trent'anni di una Lombardia che è locomotiva d'Italia, che è eccellenza, si sta come dire scontrando con un'amara realtà. Ricordiamo la posizione in classifica di Pavia. 62esimo posto. Noi abbiamo una Lombardia che va veramente a due velocità. Il centro nord della Lombardia ricco industrializzato e il sud della Lombardia che è veramente il sud non solo della Lombardia ma d'Italia. Se pensiamo che la provincia di Pavia è a 62esimo posto su 110 province. C'è un problema. La regione Lombardia non ha mai investito sul sud della Lombardia. Pavia, Lodi, Cremona, Mantova sono le aree dimenticate di regione Lombardia e lo vediamo da ogni punto di vista. La sanità, i trasporti, le infrastrutture. Qui abbiamo una carenza infrastrutturale e di servizi di trasporti che rappresentano il fanalino di coda di regione Lombardia. Una regione che pensa ancora di essere la locomotiva, di essere il traino d'Italia ma che ha un freno a mano tirato. Ha un'ancora buttata a mare. Se la Lombardia non è in grado di sollevare questa ancora, se non è in grado di togliere il freno a mano, cioè di far crescere il sud della Lombardia, di investire nel sud della Lombardia, non sarà mai la locomotiva d'Italia. E questi sono i dati che non pubblica il Movimento 5 Stelle. Gli hai letti sul Corriere della Sera, se non sbaglio. Tra l'altro non viene riportata in realtà la posizione esatta di Pavia. Pavia lo riporta oggi la provincia pavese. Cremona più 26, Cremona è undicesima con un miglioramento di 26 posizioni. Bergamo è quattordicesima, poi vediamo Sondrio quindicesima, da quindicesima a quattordicesima. No, Sondrio quindicesima ha migliorato 14 posizioni. Sondrio è sempre stata una delle province più ricche di Pavia. Lodi 49esima, Como 33esima, Lecco 32esima e poi c'è Mantua 58esima. Ripeto e ribadisco il concetto, il sud della Lombardia è il fanalino di coda di Regione Lombardia. Bisogna investire nel lavoro, nelle infrastrutture e nei servizi. Faccio un esempio su tutti. Io sono stato il primo firmatario di una risoluzione che ho portato in Commissione Quinta in Regione Lombardia ormai nel 2019, che è stata sottoscritta anche dai miei colleghi di maggioranza e di opposizione della provincia di Pavia e che è stata votata all'unanimità dal Consiglio di Regione Lombardia per chiedere per esempio il prolungamento della tangenziale da Pavia verso sud, verso l'oltre Po, quindi verso Bressana, con la realizzazione del nuovo ponte sul Po che c'è a Bressana, Votarone, che è un ponte stradale e ferroviario. Dal 2019 ad oggi Regione Lombardia non ha mai nemmeno convocato il tavolo programmatico con RFI, ANAS, le province e i comuni interessati. Questo è evidente, è già evidenza il fatto che la Regione non ha intenzione di investire al sud e quindi è evidente che la qualità della vita continua a decrescere nel sud della Lombardia. Certamente incidono anche altri fattori. Consigliere, noi adesso cercheremo di raccogliere qualche voce per cercare di capire meglio, insomma, come si vive qui a Pavia. Intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, grazie al consigliere regionale del Movimento 5.0. La posso ancora fare, una piccola battuta, sempre ritornando alle elezioni regionali. Il tema, secondo noi, più importante è la sanità, lo abbiamo visto nell'emergenza del coronavirus. Noi proponiamo la riduzione del 50% dei fondi dati alla sanità privata, quindi riequilibrare la bilancia dei fondi tra pubblico e privato. Chiediamo di ridurre di almeno il 50% i tempi d'attesa per ottenere le prestazioni sanitarie e proponiamo di creare almeno il 50% delle strutture dedicate agli anziani e ai disabili, che in regione Lombardia sono al 99% in mano ai privati. Dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare le offerte date ai cittadini. Grazie, grazie ancora a Simone Verni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Noi ci vediamo tra pochissimo, Anna. Grazie al consigliere, torniamo Elisa da te per sentire anche qualche voce che potrai raccogliere a Pavia. Noi torniamo invece anche alle notizie di cronaca e andiamo alla strage di Fidene. Domenica scorsa tre donne uccise, la rabbia scritta sulla lapide del figlio, il killer e quei dieci anni vissuti da fantasma. L'uomo della strage nella riunione di condominio, le lettere ai politici e i personaggi famosi nella casa Tugurio senza acqua né bagno, all'accia abusivi alla luce e la guerra con chi lo accusava di morosità. All'adorato romano senza più quel futuro di studente brillante negato da una corrotta gestione del patrimonio dell'umanità. Incisa sulla lapide del figlio, c'è tutta la rabbia di Claudio Campiti, un eterno atto d'accusa contro chi nel 2012 sulle nevi della Val Pusteria gli ha portato via il suo ragazzo, liceale modello alla scuola francese Chateaubriand di Villa Borghese il giorno prima del suo compleanno e contro chi, secondo lui, durante il processo ha tentato di infangarne la memoria. Ma è solo l'inizio di una tragica parabola, dieci anni dopo il 57enne ex imprenditore e assicuratore che aveva trascorso la giovinezza alla Dispoli e Cerveteri sul litorale romano ha scaricato tutto quell'odio nel gazebo affollato di innocenti del bar, il posto giusto, Prafidene e Colle Salario, convinto di essersi vendicato di chi gli aveva fatto terra bruciata attorno in un complesso residenziale vicino Rieti, gestito dal consorzio Valle Verde ad Ascrea dove pensava di potersi invece rifare una vita. Dieci anni, forse anche di più, vissuti come un fantasma. Mai una foto con l'ex moglie diplomatica Rossella Ardito, sconvolta e chiusa nella sua casa Prati, né con le figlie Sveva e Costanza cresciute nel ricordo straziante del fratello maggiore. Dieci anni di lotte parallele ma separate per ottenere giustizia per il figlio scomparso in un assurdo incidente in slittino sulla croda rossa. Lui nell'ombra ma in fondo sempre presente con il blog dedicato a Romano al quale ha fatto raccontare in prima persona tutte le sue iniziative per far mettere in sicurezza quel tortuoso tracciato fra gli alberi. Gli incontri con gli amministratori locali, le denunce in procura sulla pericolosità delle piste e la mancata manutenzione, le telefonate all'Istituto di Sanità per conoscere le statistiche sugli incidenti sulla neve, le lettere a politici e personaggi famosi anche a Reynald Mesner. Un impegno continuo per la verità poi certificata dalla condanna definitiva di tre persone. Sono morto sulla pista di slittino, se una strada di montagna si può chiamare pista finendo contro un albero. Per questo devo ringraziare il gestore che nulla ha fatto per mettere in sicurezza il tratto dove io sono morto. Io sapevo sciare ma non ero mai stato su uno slittino. Mio papà vuole che vi racconti la mia storia e quella che lui sta facendo per evitare che altri papà debbano soffrire quanto tocca a lui ora e fino alla fine dei suoi giorni toccherà soffrire, scriveva Campiti sempre a nome del figlio. Ora dopo quello che ha fatto a Roma a soffrire sono sette famiglie ma lo stile di quei post è lo stesso che il killer di Fideni ha poi utilizzato nell'altro blog Benvenuti all'Inferno, l'arma nelle sue mani per attaccare il direttivo del consorzio Valleverde. Prima di impugnare davvero la pistola, non con la mente offuscata, almeno fino a oggi non è emerso nulla a riguardo, ma secondo gli inquirenti con un lucido progetto pluriomicida che prendeva in considerazione anche l'ipotesi di una fuga all'estero. Tra i suoi obiettivi anche Luciana Ciorva salva per un soffio, quello non è matto per niente, assicurava Domenica con lo sguardo terrorizzato. Campiti la insultava in modo pesante indicandola come una delle responsabili del fallimento del suo investimento al Turano, uno scheletro di cemento armato da trasformare in casa per vacanze. È rimasta così per 15 anni senza autorizzazioni per completarla, senza acqua, bagno, la corrente elettrica assicurata da lacci abusivi, in guerra con chi gli ricordava che era amoroso sulle quote condominali. Al contenzioso per i mancati versamenti Campiti ha replicato con denunce e slogan sul web. Nel 2016 il primo striscione con la scritta Consorzio Raus, poi l'accusa con un esposto ai suoi componenti di essere un'associazione a delinquere mafiosa con tanto di pagamento del pizzo. Non ha risparmiato nessuno, nemmeno la procura e la prefettura di Rieti. Lo aveva fatto anche a Bolzano quando se l'era presa con i magistrati. L'ennesima udienza, l'ennesimo PM, mi chiedo a cosa serva questa figura se praticamente ogni udienza cambia. Forse sarebbe meglio levargli il disturbo di partecipare. Aveva scritto identico atteggiamento a Rieti, scenario diverso ma scontro continuo nelle caotiche riunioni di condominio con i carabinieri presenti, al quale Campiti non è stato sempre da solo nelle sue rivendicazioni. Dal 2015 però nessuno lo ha più seguito e l'escalation di rancore e problemi economici ha preso il largo come l'ossessione per le armi da fuoco. Allora questi gli aggiornamenti che arrivano proprio sulla strage di domenica a Roma, proprio nella riunione condominiale appunto con tre vittime. C'è ancora cronaca ma intanto è iniziata anche la conferenza di Parigi per l'Ucraina e torniamo però a sentire una voce da Pavia. Eccoci siamo con Edoardo, stavamo commentando il meteo. Edoardo invece parliamo di come si vive a Pavia. A Pavia è abbastanza bene, non è che... E' un po' la provincia fanalino di coda della Lombardia però. Ah beh, allora ci sono tante cose che non vanno. Ad esempio? Per esempio questo qui, il sindaco qui che non fa niente. Non ti trovi bene? Non mi trovo bene assolutamente, questo qui non ha fatto niente. Poi cosa possiamo migliorare come servizi? Servizi migliorare è un po' critica la faccenda perché tutti vogliono, dicono che fanno, non fanno e non fa niente nessuno. Capisci? E allora le cose stanno male, così. Cioè tutti vanno su per avere una carderega, una sedia da mettersi lì seduti e basta e prendere soldi. Non è la questione quella lì. È la questione che la gente ha bisogno di soldi e i soldi non ce ne sono. È un momento difficile, caro Bolletti. Difficile? Beh, il caro Bolletti è quello che lo sappiamo che è molto difficile. Però... Un aumento dei costi della spesa. Danno anche la mano, però bisogna dire la verità. a quelli che hanno meno soldi, effettivamente danno la mano. Però ci sono anche persone che ne approfittano. Cioè non hanno bisogno di niente eppure magari vanno a lavorare in nero o via discorrendo e prendono magari il reddito di cittadinanza. Questa qui è una cosa sbagliata. Questa qui è una cosa da togliere. Ma tu... Secondo me. Secondo me, né? Poi la gente può dire quello che vuole. I furbetti ci sono sempre da per lui. Ma sempre, ma ne è un sacco. Poi ci sono quelli stranieri addirittura che poi loro ci vivono dentro, quelle cose lì. Ma senti, tornando invece alla nostra Pavia, qual è secondo te invece una virtù, una qualità che ha questa città? Che ti piace insomma? Hai detto ti piace comunque vivere a Pavia? Pavia si vive tutto sommato bene? Io sono nato qua. Sono nato qua, perciò... Il cuore. Sì, io la tengo com'è. Però se migliorerebbero qualche cosa sarebbe molto, molto, meno... C'è da fare, si può migliorare. Sì, si può migliorare molto. Ma dicono, ma non fanno niente. Piano piano, dai. Dobbiamo essere fiduciosi. Eh sì. Grazie mille, Edoardo. Grazie, buona giornata. A te, Anna. Grazie. Andiamo a leggere un'altra notizia di Cronaca, proprio arrivata in queste ore. Si parla dell'ex amministratore delegato di FTX, arrestato alle Bahamas, le accuse penali dagli Stati Uniti, anche prode e riciclaggio. Sam Bankman Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, è stato arrestato alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno presentato delle accuse penali nei suoi confronti. L'arresto apre un nuovo capitolo nella saga della piattaforma di trading di criptovalute scivolata in bancarotta. Dopo essere salita alle cronache, come una delle star dell'industria, la società su cui fare affidamento nel Wild West delle valute digitali. Le accuse contro il trentenne saranno ufficialmente annunciate nelle prossime ore e saranno secondo indiscrezioni di frode e riciclaggio di denaro. È probabile che gli USA chiederanno anche l'estradizione che le autorità del paese caraibico hanno già detto esaudiranno non appena sarà la richiesta formalmente depositata. Le Bahamas e gli Stati Uniti condividono l'interesse nel ritenere responsabili tutti coloro associati con FTX che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge. L'afferma il premier caraibico Philip Davis, bankman fraide alle Bahamas, da quando FTX ha richiesto la bancarotta assistita. L'ex amministratore delegato aveva spostato la sede di FTX nella capitale delle Bahamas da Hong Kong nel 2021. Nelle ultime settimane il trentenne si è lanciato in un'offensiva mediatica con una serie di interviste virtuali per spiegare la sua verità e per fare pubblicamente mea culpa per gli errori che hanno spinto FTX alla bancarotta causando ingenti perdite agli investitori. Il suo arresto precede di poche ore l'attesa audizione del nuovo numero uno di FTX John Ray III in congresso. Il collasso di FTX deriva dall'assoluta concentrazione di controllo nelle mani di un piccolo gruppo di individui senza esperienza che non hanno attuato i controlli che sono necessari per una società alla quale viene data fiducia con soldi e asset. Dirà ai deputati lo specialista delle ristrutturazioni che vanta nel suo curriculum anche altri nomi eccellenti. Ray fino da quando ha assunto l'incarico ha criticato alla precedente gestione e ha incontrato almeno una volta le autorità che stanno indagando su FTX. Allora questa è anche un'altra notizia di cronaca ma si parla anche di economia in questi giorni. Lo abbiamo visto prima con i dati dell'Istat ma ora andiamo a vederlo anche con il Corriere perché si parla di Superbonus e di come funzionerà il mini rinvio a fine dicembre. La politica è l'arte del compromesso e così sulla proroga del Superbonus si sta delineando nel percorso di approvazione della legge di bilancio una mediazione tra i tecnici dell'economia contrari per i costi e i partiti invece favorevoli allo slittamento al 31 dicembre della presentazione della comunicazione di inizio lavori per ottenere l'agevolazione piena. Ricordiamo in breve i termini della questione. Il decreto aiuti 4 ha cambiato le scadenze per ottenere il Superbonus al 110%. Lo potranno avere solo i condomini che hanno presentato la CILAS appunto la comunicazione di inizio lavori entro il 25 novembre scorso a seguito di una delibera assembleare assunta entro il 24 di novembre. per le CILAS presentate successivamente il bonus scende al 90% per lavori effettuati entro il 2023. Restano invariate le detrazioni al 70-65% previste invece per gli anni successivi. Il compromesso sarebbe quello di consentire il 110% alle CILAS presentate entro il 31 dicembre ma tenendo ferma la scadenza della delibera assembleare. Non siamo in nessun modo in grado di dare un numero di condomini che potrebbero beneficiare di questa mini proroga anche se pensiamo non possano essere molti perché chi aveva intenzione di usufruire del bonus si è mosso da tempo la tentazione di predatare la delibera per chi l'avesse assunta successivamente al 24 novembre sarà, secondo le anticipazioni sul testo dell'emendamento che dovrebbe dare il via libera alle nuove scadenze molto rischiosa perché l'amministratore rischia una denuncia penale. E allora questi anche gli aggiornamenti in vista della modifica del Superbonus ma torniamo a Pavia. Sì perché siamo con Beatrice e Lina per parlare della qualità della vita qui a Pavia. Allora come si vive a Pavia? Si vive veramente bene. Io sono di Genova tra l'altro. Io sono di Pavia. Però mi piace molto Pavia. Sì è una città tranquilla e anche bella. Quindi si è trasferita qua? Sì c'è il ponte coperto, le torri è veramente bella. Lina lei cosa ne pensa? Io non sono anch'io di Pavia, sono nata a Sesto San Giovanni e la differenza adesso è palese. Pavia è una gran bella città, ha delle chiese una più bella dell'altra, ha un centro storico tranquillo e è una città molto vivibile. A misura d'uomo? Certo. Per quanto riguarda magari anche i servizi? Abitando a Pavia dove abito io c'è l'autobus, non usando la macchina, che arriva alla stazione. La stazione Pavia è vicinissima con l'S13, vai subito a Milano. Per cui è... Lei è entusiasta? No, entusiasta, dico che vivo bene. Vive bene. Sì, io vivo in centro, posso venire anche a piedi, però ci sto bene, a Genova non è così, è più grande, tipo Milano più piccola però caotica, insomma è pazzesca, qui si sta bene veramente, sono contenta. Un aspetto da migliorare invece secondo voi? È troppo, magari me l'ha tagliato il sindaco. Vi trovate un po' a difficoltà con il sindaco? No, 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 io da migliorare, beh ci sono alcune cose, non è che tutto... Rose e fiori, chiaramente. Rose e fiori, migliorerei la pulizia delle strade, questo sì, perché Pavia, adesso vabbè piove, però quest'inverno, quest'estate era veramente sporca, non pioveva, c'erano... Poi sì, a Pavia si mette l'umido, così si mette fuori qualcuno in civile, si spaccano i sacchi, c'erano degli odori incredibili alla mattina. Quindi curerei di più le pulizie, il decoro, il decoro della città, quello sì. Sei della stessa opinione, Betricio? Certo, anche in piazza la sera, questi ragazzi che bevono, si picchiano adesso, bisognerebbe fare qualcosa per quella faccenda lì veramente. Un pochino di sicurezza in più? Sì, infatti, più sicurezza, perché se non c'è, stare attenti perché adesso Pavia è diventata un po' più pericolosa, perché prima no, invece adesso si va in un posto, una strada un po' isolata, tipo qua dietro, è pericoloso. Ha un po' più paura rispetto al passato? Per me sì, ho più paura. Sì, io non sono una che esce di sera, però abbiamo la fortuna che abbiamo il teatro. C'è purtroppo solo un cinema, perché è stata una scelta intelligente di un'altra amministrazione, di un altro sindaco, che ha detto no, una città come Pavia deve avere un cinema. Quindi è rimasto un cinema, abbiamo la fortuna di avere un teatro, un bel teatro. Insomma, non manca nulla e quello che c'è va un po' migliorata, alcune cose vanno migliorate. Abbiamo San Matteo che è un'eccellenza, poi ci possono essere delle cose che, però San Matteo è un'eccellenza e poi da quel punto di vista lì è tutto, diciamo che c'è anche di meglio, certo, però così non ci possiamo lamentare. Va bene, grazie mille, grazie mille a Lina e a Beatrice per essere state con noi. Anna, noi stiamo continuando a raccogliere le voci in città, come vedi, luci e ombre, però tutto sommato c'è anche di che essere felici qui a Pavia, nonostante non sia premiata per nulla, diciamo, nella classifica per la qualità della vita del sole. 24 ore, ora ti restituisco la linea. E allora, noi torniamo anche alle notizie internazionali, perché è iniziata la conferenza di Parigi per l'Ucraina. Pescovo parla di colloqui tra Putin e Xi entro l'anno. Le ultime notizie sulla guerra, intanto Zelensky dice che i blackout sono l'ultima speranza della Russia. A Parigi, appunto, la conferenza sull'Ucraina. Allora, intanto, notizie che arrivano appunto dalla conferenza, ma sull'Ucraina si parla anche di una risoluzione del centro-destra con il Senato che impegna il governo a proseguire e intensificare in tutte le sedi appropriate l'azione diplomatica volta a conseguire una pace giusta e sostenibile nel rispetto delle norme di diritto internazionale della sovranità e dell'integrità territoriale a vantaggio della stabilità e della sicurezza internazionale, assicurare con tutte le iniziative necessarie e possibili il supporto umanitario alla popolazione civile ucraina rimasta in patria e i profughi in fuga dalla guerra. Questa è la risoluzione presentata dai capi gruppo di centro-destra in Senato dopo le comunicazioni del ministro della Difesa, Crosetto. Invece c'è anche una risoluzione del Movimento 5 Stelle. Il governo italiano non procede all'emanazione del sesto decreto interministeriale per la proroga dell'autorizzazione all'accessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina al fine di interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari. Questa è invece la richiesta completamente diversa del Movimento 5 Stelle sempre al Senato. Intanto i mass media a Mosca parlano di un possibile vertice tra Xi e Putin entro la fine dell'anno. Il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero avere un colloquio in videoconferenza entro la fine dell'anno per discutere gli eventi del 2022 e in particolare la situazione in Ucraina. Lo riferisce un giornale russo che cita un portavoce del Cremlino secondo cui la data e l'agenda dell'incontro sono già noti ma un annuncio ufficiale avverrà prossimamente. Intanto ancora gli interventi, leggiamo anche quello del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede all'evento l'Europa e la guerra dallo spirito di Helsinki alle prospettive di pace all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Ha detto non possiamo non domandarci se stiamo veramente facendo di tutto, tutto il possibile per porre fine a questa tragedia. Ha detto riferendosi al conflitto in Ucraina nell'Angelus del 1 ottobre. Il Papa si è rivolto direttamente al Presidente della Federazione Russa e al Presidente dell'Ucraina supplicando il primo di fermare questa spirale di violenza e di morte appellandosi al secondo affinché sia aperto a serie proposte di pace. E allora queste le notizie anche dalla conferenza sull'Ucraina ma torniamo per i saluti anche a Pavia. Sì in una città che ci ha accolto in un clima freddo con un leggero nevischio e poi le luminarie, gli addobbi natalizi e il mercato con tanti anche banchi dedicati ai doni per le feste. Abbiamo potuto parlare insieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni insieme a lui abbiamo fatto il punto sulla situazione legata alle ormai prossime elezioni regionali il punto sulla scelta del candidato legato al Movimento 5 Stelle ma per ora abbiamo parlato solo del programma. E poi le voci raccolte in città sulla qualità della vita che viene bocciata al 62esimo posto la provincia di Pavia dal sole 24 ore tra luce e ombre è stata sostanzialmente confermata un po' la posizione che vede Pavia Fanalino di Coda in Lombardia. Ma c'è anche chi apprezza molto e addirittura si è trasferito in questa città per vivere. E da Pavia, Anna, è tutto, ti restituisco la linea. Allora grazie a Elisa e agli ospiti che hanno parlato, che l'hanno incontrato, che ha incontrato questa mattina. Noi siamo in chiusura, vi ricordo ancora appunto sul fronte internazionale che è iniziata la conferenza di Parigi per l'Ucraina e si parla anche di un possibile colloquio tra Putin e Xi entro l'anno. Mentre in Italia questa mattina l'intervento alla Camera della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo il punto appunto su quelle che saranno le politiche italiane in Europa e poi anche sull'Ucraina e sulla crisi energetica. dall'Unione Europea risposta insoddisfacente e inattuabile sull'energia. Le parole della Premier ora è in corso il dibattito alla Camera, proprio ovviamente dopo le parole di Giorgia Meloni. Il dibattito che continuerà anche nel resto della mattinata. E allora noi siamo arrivati invece al termine di questa puntata di questa mattina. Ovviamente vi invito a continuare a seguirci, a seguire la nostra informazione a partire dal telegiornale, dalla prima edizione alle 12.30 e poi con le edizioni serali. C'è sempre anche il nostro sito espansionetv.it, it aggiornato in tempo reale come i nostri canali social. e TG più Today invece termina qui e tornerà domani mattina alle 10.30. Buona giornata.